Bella a tutti ragazzi, io sono Alex E io sono Alghisius e oggi siamo su... No, non siamo su Cazzo, siamo su Clever Penomale Siamo anche con le cuffie Perché? Perché fa più figo Anche se Clever non c'è nessuna musica E' triste Va bene, ok Quindi io direi di fare qualche domanda Di cominciare... No, che cazzo fai? Eeeh... Vabbè, 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 voglio vedere così Che non stiamo... Wow No, va bene, allora Chi sei? No, chi sei? Se non sai chi è... Chi sei? E giustamente, si chiede, chi sei? Tyranitar è il tuo fidanzo Beh, è quasi un'ora di essere fidanzata con un Pokémon No, sono scherzato, cioè che cazzo ti dici Perché Tyranitar? Che c'è entra Tyranitar? Ma... Magi... Cazzo E' supposato che sei un Magikarp Sei un Magikarp, perché? Che cazzo Che cosa è? Che sei un esso umano? No No, no, no No Sono un sanguo Ecco E non ti puoi incasinare? No Non ti puoi incasinare? Non ti puoi incasinare? Perché sei un QQ? No, ma... Ma non ti puoi incasinare? Io... Io... Never... No No Non ti puoi incasinare? No Nel mio cuore c'è un altro non si sa perchè però va bene io ho eseri al ghi al ghiisius due eseri ok sei bello grazie ok sei bello un appuntamento anche tu grazie ma io sono maschio ma l'ho capito WTF una sfo una sfo ma il polale e tu una viola e tu una tu una giraffa in calore ma che un cammello un cammello un cammello aspetta eh aspetta aspetta hai rotto no 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 hai rotto pure tu no perché io le le scinchie le mangi ha merenda il dottore perché ha scritto mio le scimmie non è vero oh che scoperto oh 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 io sono una rana non eri una femmina è una femmina rana rana su tutti è una rana unita aspetta chiediamo qualcosa di serio no non mi metti che ti dicevo questo è serio ok a me e cita molto ok ok quello che tocca ok ed è stato un progetto aspetta anche tu guarda vuota l'esistenza stessa oddio cos'è la vita quale no senza apostrofo aspetta cosa c'entra ho chiesto qual è l'esistenza stessa della vita quello ho scritto non mi hai fatto delle domande si ah non c'ha più di domande ha ragione ha ragione attenzione ha ragione ho scritto quella non quale ma cosa dici questo quale è l'esistenza stessa della vita io ti continuo a fare la stessa domanda ma 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 scusa perché oddio ma mi ha paura se lo sapesse adesso non starete alla ok ok ecco ecco adesso ce lo dice non ha senso quello che cosa ti piace fare piaccio 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 fare allora svegli ma dai adesso farlo ma cazzo è too late ok fricco no 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 cuculo ti ho detto che mi frucco i pala facciamo pazzo allora nooo Atomic 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 S REGimo Ok RIT ma vai a farlo ma vai a farlo posso dirtelo ah l'imperatore ah Nurag e penso che sia una cosa delle città no uuuu oddio perchè perchè sta scritto ma in francese ma non è scritto in francese è scritto in una lingua ben conosciuta oui oui je t'aime l'origine della vita stessa banderas tenderas ehm flauti mulino bianco e bauli itali e pizza e pizza e cosa? e cosa? e cosa? interessante come dance dai io aspetta ho scritto di scuola no perchè deve rispondere l'ho lasciata senza parole oh mamma mia ho ucciso clever bot like this non so non c'è mai riuscito nessuno neanche family j neanche più di pi nessuno c'era mai riuscito no sta cosa forse si quindi quindi si rivedremo in un po' sono vivo di clever bot ah lo facciamo ancora sta merda e quindi bella ragazzi ho deciso per ottenere la mia vendetta di usare voi la vostra debolezza no non puoi dire sul serio ho parlato fin troppo vorrei finirla preparati geo arrivano eppure erano finalmente diventati amici mi spiace geo a due devo farne fuori due a due devo farne fuori